Per secoli ci siamo nascosti sulla Terra. Ma l'oscurità ci ha trovati di nuovo. Rhyme. Qui è in gioco il destino di tutti gli esseri viventi. Unicron sta arrivando. No, retromaccia. Oh, non eravamo soci. Hai portato un umano qui? Non sono nessuno e non ho visto niente. Non vedo niente neanche ora. Non è la nostra guerra. Optimus, dobbiamo fidarci l'un l'altro per proteggere la casa che condividiamo. E quanto grande sarà mai? Ah, divora pianeti. Quindi molto più grande di un pianeta. Alla fine, tutto quello a cui tenete verrà divorato. Forse c'è un'altra maniera per salvare il nostro mondo. Non avete mai affrontato niente di simile. Lascia che vengano. Aggi colla via senza poi diventa. E przy lic 까ителей saluto. C'è un'altra maniera? Sì, va bene. Sì, va bene. Sì, va bene. Non amate. Sì, va bene. Sì, va bene. Sì, va bene. Ma l'altra maniera per l'altra persona ha Legends. Sì, va bene.